Ciao Astronomers! Sono molto felice di annunciare a te la nuova release 1.1 di Play, il nostro software astrofotografia facile da usare, che ha aggiunto supporto di ASCOM Camera! Play è l'astrofotografia che sviluppiamo specificamente non solo per controllare i dispositivi Prima Luce Lab, ma anche per permettere di usare il vostro computer EGLE o standard Windows per fare l'astrofotografia in modo facile! Play comincia con il configuratore, dove puoi scelere il vostro Rota, connessurare il montaggio, Exatto o Sesto Senso 2 Focusing Solutions, Arco Rotator, e ora puoi anche controllare le camere astronomiche servite con ASCOM. Quando entriamo nella seczione di Play, puoi controllare il focus, rotare la camera e muovere il montaggio. E ora puoi anche trovare il tab Preview, dove puoi vedere la foto in real-time dalla tua camera. Qui puoi scelere il tempo di exposizione per la tua foto, sette la tua camera, scelere quanti foto vuoi registrare, il tempo di delay tra le foto, la temperatura lavorativa della tua camera se viene con un calcio, e scelere il valore di pinza. Ora pressa il botto Preview per vedere l'immagine. Qui hai controlli per muovere il montaggio, e l'ambientare il tuo obiettivo, zoomi per allargare o affidare la tua immagine sulla scena, e i controlli per muovere il focus. Quando sei contento con la Preview, pressa il botto grande di Play per iniziare la acquisizione di sequestria. I miei immagini sono salvati in file FITZ-File in la diretoria che hai scelto sotto il configuratore camera. Ficcato e facile! Play è gratuito e puoi downloadarlo dalla seczione di download del nostro sito. In order di lavorare, semplicemente necessita almeno un esatto focus o Sesto Senso 2 Focusing Motor. Finalmente, solo una ricordata, il sviluppo di sviluppo è un processo continuo e lavoriamo per supportare più dispositivi, nuove funzioni e fissure. Per più contenuti che ti aiutano a esplorare l'Universo come un Pro, abbiatevi al nostro canale e... CLEAR SKY! BORISO! BORISO! Grazie a tutti.